Amerigo Varotti, quinta edizione degli itinerari della bellezza, quest'anno 16 comuni, quindi sempre più grandi, è la dimostrazione del successo degli ultimi anni? Sì, successo determinato dall'aumento delle presenze turistiche, dei visitatori nei musei, nelle rocche che gestiamo e di una grande capacità di promuovere il territorio a livello nazionale e internazionale. L'itinerario della bellezza si è dimostrato un progetto vincente perché ha saputo mettere insieme in rete, collaborare, tante amministrazioni comunali. Era un sogno una volta, era il tempo dei campanili dove ognuno pensava per sé. Oggi molti hanno capito che legandosi al progetto di ConfCommercio c'è la possibilità di fare una comunicazione, una promozione unitaria di quelli che sono i cluster principali dell'offerta turistica della nostra provincia. Pesaro, capitale della cultura 2024, itinerario della bellezza, si può dire che vanno a braccetto? Assolutamente sì, perché capitale itinerario della cultura 2024 vuol dire che già da adesso dobbiamo essere capaci di utilizzare questo brand per promuovere il nostro territorio, tutto. D'altra parte Pesaro ha vinto anche perché ha saputo mettere insieme tutta l'offerta dei 50 comuni della provincia di Pesaro Urbino. Molti di questi, 16 appunto, sono in itinerario della bellezza. E per questo noi abbiamo anche deciso di organizzare degli eventi, due in maniera particolare a Bergamo e a Verona nel mese di settembre, dove parteciperemo con dei nostri stand alle fiere turistiche, ma organizziamo anche degli eventi legati appunto a Pesaro, capitale della cultura, insieme al comune di Bergamo e insieme all'organizzazione del VTE di Verona, che è la fiera del città UNESCO. È la dimostrazione dell'importanza della rete di cui parlava? Sì, molti comuni lo stanno capendo e anche il prossimo anno saranno nuove entrate nel nostro progetto. Il mondo del turismo è un mondo di grande concorrenzialità a livello nazionale e internazionale. Non si può più fare da soli. Io ricordo sempre, con affetto ma anche con simpatia, quando ai primi anni 90 ero presidente dell'azienda di soggiorno di Gabice Mare. Appena nominato, gli albergatori mi dissero che dovevamo andare alla fiera del turismo di Berlino. E io, acerbo di queste cose, presi uno stand alla fiera di Berlino e mi ritrovai vicino al Brasile. Cioè a dire che non si può pensare più di essere da soli, di presentarsi da soli nel mondo del turismo. Bisogna fare squadra. Noi siamo riusciti a farla e devo ringraziare i comuni che hanno dato fiducia al lavoro che stiamo svolgendo, a tutti i collaboratori, il personale di Confcommercio e anche degli enti che ci aiutano, insomma, dalla Camera di Commercio al Gruppo Era, a Riviera Banca e agli enti bilaterali.